Ed eccoci qui con la guida a Ethereum 2.0 e allo staking anche con meno di 32 ETH. Le cose che devi sapere. Un benvenuto da Alberto Malini di Crypto Learners, benvenuto e benvenuta, e andiamo subito a vedere quali sono queste cose importanti che devi sapere. Parliamo in innanzitutto di che cos'è Ethereum 2.0. Facciamo una premessa perché se ne sente parlare veramente tanto in questi giorni e c'è un motivo ben particolare perché la fase 0, quindi la beacon chain, è definitivamente ufficialmente partita proprio ieri. Oggi è il 2 di dicembre, giornata storica, quella di ieri, del primo di dicembre 2020, dove è partita la fase 0 di Ethereum 2.0. Andiamo a vedere per file per segno che cosa vuol dire, quali sono i vantaggi che porta, che porterà Ethereum 2.0, perché era necessario avviare, perlomeno da parte degli ideatori, avviare questa cosa. In effetti è innegabile che potesse essere necessario un ampliamento della velocità, dell'affidabilità della blockchain e del protocollo. Ok, partiamo con che cos'è Ethereum 2.0 e perché è così importante. È stato un upgrade da lungo tempo pianificato del network di Ethereum con l'idea di risolvere problematiche legate alla scalabilità e alla sicurezza. Cioè, sbiuscirà alla proof of stake consensus mechanism. Molto probabilmente lo sai, se non lo sai ti invito a informarti, a studiare, queste sono cose estremamente importanti, le principali blockchain oggi al mondo, nel mondo delle criptovalute, che sono ovviamente Bitcoin, c'è chi dice che è l'unica. Adesso io adoro Bitcoin, è innegabile che sia la più affidabile, la principale, non mi ritengo un Bitcoin maximalista, anche perché è innegabile che Ethereum ha un'importanza veramente notevole e acquisirà sempre più importanza. Vediamo anche perché. Ok, quindi il passaggio dalla proof of work è un tipo di consenso, l'algoritmo di consenso che hanno il Bitcoin e in questo momento, tuttora adesso, Ethereum e così tante altre blockchain, passaggio per quello che riguarda Ethereum al proof of stake. Quindi senza il consumo di elettricità, senza il bisogno di avere miners che validano le transazioni, quindi andando ad appendere i blocchi per ufficializzarle e ricevere un compenso economico che va a compensare il costo in termini di hardware, di costi di gestione e soprattutto di elettricità per mantenere il network stabile, affidabile e online. Invece proof of stake vuol dire che ho un un ammontare di Ethereum, quindi di capitale, di asset e col mio asset, come nodo validatore, garantisco la validità delle transazioni. Se lo dovessi fare in maniera maliziosa, quindi non corretta, sbagliata o tentando di fare frodi, l'asset che ho messo in staking, quindi a garanzia, mi viene portato via. Questo si chiama slashing. Perché non ho fatto le cose come andavano fatte, non perché venga punito per un qualsiasi cosa, sì, vengo punito perché non sto alle regole del gioco, di questa teoria dei giochi, che è il consenso algoritmo. Ovviamente per fare questo, per tenere vincolati, bloccati degli ETH, quindi parte del mio asset o tutto il mio asset in ETH, ricevo un compenso, possiamo chiamarlo interessi o semplicemente compenso. Ok, quindi in breve, ETH è, senza ora di dubbio, la seconda più importante e grande criptovaluta del mercato. Ha pianificato questo immenso upgrade per il network. ETH è l'upgrade che ha l'intenzione di aumentare la scalabilità e la sicurezza del network. La prima fase di questo upgrade è qui nel 2020 ed è ufficialmente partita proprio nella giornata di ieri, come abbiamo detto. E permetterà di vedere lo switch di ETH 2.0 al Roof of Stake. Bene, giusto per correttesta andiamo a vedere Bitcoin, queste sono le migliori 100 monete per capitalizzazione, Bitcoin e Ethereum, poi seguono le altre. ETH al momento ha un volume di transazione nelle 24 ore di 17 miliardi contro i 32 di Bitcoin. Quindi è, senza ombra di dubbio, una moneta estremamente importante ed è la seconda. Senza dire, adesso non entriamo nel dettaglio per motivi di tempo, senza dire che su Ethereum, come ben saprai, girano tantissimi interessi e tantissimi capitali, soprattutto legati al mondo DeFi e CIFI, cioè finanza decentralizzata e finanza centralizzata però passando dalla decentralizzata. Quindi comunque c'è un notevole interesse e proprio capitali che girano su questo network. Quindi la visione del ideatore Vitalik Buterin, che abbiamo visto qui nella foto, questo è Vitalik Buterin, è stato l'ideatore e il creatore della blockchain Ethereum. E aggiungiamo di tutto il pool di programmatori e di esperti che comunque ci lavorano, sia in open source che con un team dedicato. La visione è quella di portare Ethereum al mainstream, quindi servire tutta l'umanità e di avere un Ethereum sempre più scalabile, sicuro e sostenibile. Quindi più scalabilità, l'obiettivo è, Ethereum necessita di supportare mille o più transazioni per secondo. Al momento non vorrei dire una cavolata, magari correggimi nei commenti, dovrebbero essere 15 transazioni al secondo o qualcosa del genere. Quindi per rendere le applicazioni più veloci e soprattutto anche più economiche da utilizzare. Lo sappiamo, c'è anche un video, ti consiglio di guardarlo, sull'Ethereum Gas, cioè sul costo delle feed di Ethereum. Sono momenti di congestione del network dove il costo delle feed di transazione aumenta drasticamente proprio perché c'è questa sorta di collo di bottiglia dove essendoci tante cose che girano su Ethereum, ci sono tante transazioni, quindi per avere questa teoria dei giochi, per avere questa transazione, la mia transazione validata, ho bisogno di pagare di più di fee per rendere appetibile la mia transazione ai miner e quindi essere validata. Ma ripeto, non entriamo qui nel dettaglio. Quindi più sicuro, Ethereum necessita di più sicurezza, ovvio, con tanti capitali che ci girano sopra, soprattutto questa crescente nuova finanza decentralizzata, c'è bisogno di grande sicurezza. Quindi l'adozione di Ethereum è cresciuta, soprattutto quest'anno, e crescerà sempre di più, il protocollo necessita di più sicurezza anche contro ogni forma di attacco. Più sostenibilità, Ethereum necessita un migliore ambiente, la tecnologia oggi richiede effettivamente troppa potenza di computing, troppa potenza ed energia proprio che viene utilizzata. Come vedi qua, partita proprio ieri, il primo dicembre, come dicevamo, lo stesso Vitalik Buterin ha fatto i complimenti, ci ha congratulato con tutti i programmatori, tutte le persone che hanno seguito e hanno lavorato in questi anni, soprattutto ultimamente, al passaggio e quindi alla creazione di questa fase 2, di questo aggiornamento. Prima di entrare nel dettaglio delle fasi di questo upgrade, quindi Ethereum 2.0, di che cos'è effettivamente, Ethereum 2.0 è un upgrade, ok? L'avrei capito, è il passaggio e l'upgrade che permette il passaggio dal proof of work al proof of stake, come consenso di algoritmo. Nascono indubbiamente delle domande, le domande principali sono, ma io ho degli Ethereum, che propriamente sono chiamati Ether, cioè il token nativo della blockchain Ethereum. Siamo passati alla Ethereum 2.0, devo fare qualche cosa? Domanda tipica che ci chiediamo, se non sappiamo ancora come funziona. Ecco perché abbiamo voluto questa guida a grande richiesta. Perfetto, non devi fare assolutamente nulla. Hai i tuoi Ether, che tu ce li abbia sul tuo wallet con la tua private key. Per esempio, se ce li hai su un wallet tuo con la tua private key, non devi fare assolutamente nulla. Se ce li hai su un exchange, stessa cosa, non devi fare assolutamente nulla. A meno che tu non voglia diventare o un nodo validatore o in generale fare staking, quindi mettere, contribuire al network, come abbiamo detto prima, facendo il nodo validatore o mettendo in staking i propri Ethereum, dove sono richiesti un minimo di 32 Ethereum per farlo e soprattutto è richiesta una conoscenza specifica. Poi dopo vediamo tutte le possibilità per fare staking, quali sono, a seconda del livello di investimento economico e anche, soprattutto, della conoscenza in termini di knowledge, dal più difficile al più facile. Quindi metto a garanzia i miei 32 Ethereum per andare a contribuire al network, quindi a sostenerlo, a validare le transazioni e in compenso ricevo un premium pagamento. Se lo voglio fare, ovvio, dovrò fare delle azioni e qui si apre un altro mondo. Però attenzione, anche questa cosa è da sapere, passo su Ethereum 2.0, si chiama Beacon Chain perché è la fase iniziale e vediamo quali sono le fasi di questo upgrade Ethereum 2.0 ed è a un'unica via, cioè se io metto i miei Ether in staking su Ethereum 2.0 non saranno più disponibili fin tanto che non si arriva a compimento degli upgrade e si passa tutti gli effetti alla versione definitiva di Ethereum 2.0 e attenzione perché richiederà molto probabilmente degli anni, non prima di 1-2 anni, non prima, ok? Ma vediamo assieme anche le fasi e capiamo cosa vuol dire. Quindi se voglio passare con i miei Ether e Ethereum 2.0 non ho più quella liquidità, quindi saranno bloccati lì fin tanto che non verranno terminate tutte le fasi degli upgrade. Andiamo a vedere quali sono queste fasi degli upgrade. Eccoci qua, sono divisi, questo upgrade è diviso in varie fasi. La fase 0, che è ufficialmente partita ieri, momento storico, ripeto, primo dicembre del 2020, ha avuto l'introduzione dell'Ethereum 2, quindi Proof of Stake Consensus Lawyer, cioè substrato, o meglio, strato della blockchain, e a tutti gli effetti una blockchain differente da quella a cui siamo stati abituati, su cui gira Ethereum o Ether. Si chiama Beacon Chain, andiamo a vedere anche dopo alla fine, è possibile visionarla, controllarla, come si fa tuttora con la blockchain Ethereum. Questo porta alla tracciatura dei validatori e del balance, quindi del bilancio, dei validatori di Ethereum 2.0. È un'unica via, come ho detto prima, quindi chi deposita in stake Ethereum, li deposita sulla Beacon Chain e non possono più migrare e tornare indietro. No State Management, non ci sono, cioè è una sorta di chain di test, non ci sono a tutti gli effetti transazioni, se non la messa in staking e non ci sono, la cosa per cui Ethereum è diventata famosa e utilizzata, gli smart contract. Poi avremo una fase 1 chiamata Shard Chains. Praticamente è la creazione di Sharding, cioè la suddivisione della chain in più Shard. Possiamo pensare agli sharding, scusami, agli shard, accento bolognese che mi porta la S, come a dei mondi separati, differenti pianeti in cui avvengono delle cose, quindi in cui delle vere e proprie blockchain a sé. Ecco perché così si va a potenziare la velocità di calcolo e di transazione, perché moltiplico le blockchain. Quindi ci sarà una conduzione di prova nella fase 1 Ethereum 2.0 dell'infrastruttura di Sharding, quindi aggiunta, storing, quindi l'immagazzinamento, l'aggiunta e il ricontrollo dei dati di Shard. I validators are now validating randomly selected Shards. I validatori valideranno in maniera random, casuale, determinati Shard. Not the full chain anymore. Quindi non più la chain principale, quella dove abbiamo l'utilizzo in questo momento, cioè Tiron Classica, con il proof of work, e i miners. No state management, ancora non ci saranno transazioni e smart contract, quindi diventa un inizio di test degli Shard. Poi avremo la fase 1.0, questa è la fase già molto più importante e più avanzata, quindi migrazione di Ethereum 1, con l'attuale, con i miners, su Ethereum 2. Come? Ethereum 1 diventerà uno Shard, cioè un mondo a sé all'interno dell'ecosistema Ethereum 2. Non ci saranno ancora no full sharded execution, non ci saranno ancora le comunicazioni tra un mondo e l'altro, tra uno shard e l'altro, cosa che avverrà nella fase 2, state execution, cioè la fase finale. Aggiunta delle esecuzioni del rimanenti Ethereum 2 Shard, quindi sarà pienamente operativa, ci sarà la possibilità di avere smart contract all'interno di ogni singolo mondo, quindi ogni Shard, e la intercomunicazione tra un mondo e l'altro. Quindi un'unica blockchain suddivisa, possiamo pensare a un sistema solare, esempio, Ethereum, ogni Shard è un pianeta con i suoi satelliti e tutto quello che viene in quel pianeta, che però comunica e fa sapere agli altri pianeti quello che sta accadendo. Un esempio preso a prestito dall'astronomia, ma mi calza, insomma mi sembra di ragionarci con questo. Allora, vediamo velocemente cos'è accaduto fino ad oggi per quelli che riguarda Ethereum 2 e questa partenza della fase 0. dove era richiesta alcuni giorni prima dell'avvio, quindi alcuni giorni prima del primo dicembre, di arrivare a un quantitativo minimo, questo quantitativo minimo di Ethereum, scusami, di Ether messi in staking, sugli indirizzi, sull'indirizzo specifico dell'Ethereum 2, era 524.288 ITER. In realtà a oggi siamo arrivati a 969.000 e passa ITER. Questo è l'attuale balance di ITER messi in staking, quindi ampiamente superato, quasi il doppio. Questo denota un grandissimo interesse a passare a questa fase. E siamo solo all'inizio, è solamente il secondo giorno. Cosa comporta questo? Staking and rewards, quindi lo staking e i compensi. Come dicevamo prima, i validatori ricevono un compenso proprio per mettere in staking, quindi mantenere sospeso, bloccata la loro liquidità, al fine di mantenere sicuro e far funzionare il network. I rewards, quindi i compensi, sono variabili a seconda dell'importo, quindi dell'ammontare di ITER messi in staking sul network. Cosa vuol dire questo? Partiamo dalla situazione corrente attuale. Situazione corrente, ci sono i staking 969.954 ITER. Quindi, a seconda di quanti ITER sono messi in staking, qui abbiamo questa curva, non è proprio preciso al 100%, è un'indicazione che danno i programmatori di ITER. In questo momento, mettendo in staking i miei ITER, ricevo un interesse su base annua, quindi un compenso di circa il 16%, dire la verità al 15,9%. Più persone passeranno a mettere in staking ITER e ovviamente, cioè ovviamente funziona così, il compenso che si riceve viene spalmato tra più persone, quindi tra più ITER, e diventa sempre meno. Fino, qui vedo, arrivare a un minimo indicativo di 4,9%. Ecco, tieni presente questo, il mondo della finanza tradizionale, quindi in termini di bond, scusa, obbligazioni, titoli di Stato, quanto offre oggi in termini di interesse annuo, mettendo in staking, perché anche quello è staking, ipotesi degli euro, compro un titolo di Stato, cosa faccio? Metto in staking il mio capitale, il mio asset, euro, per ricevere un compenso ogni sei mesi o a fine anno. Fondamentalmente è molto paragonabile questa cosa. C'è un rischio di default da parte dello Stato, della comunità europea, e abbiamo un rischio di default da parte della blockchain. Tutto comporta dei rischi, non sto dicendo uno è più sicuro dell'altro, semplicemente sto paragonando in termini di idee lo staking su Ethereum rispetto allo staking in bond, quindi in obbligazione. C'è da dire che il mondo istituzionale queste cose qui le guarda e come, per quello che riguarda la DeFi, finanza decentralizzata, stanno già iniziando a interessarsene, per non dire, iniziando ad assaggiare, a bagnarsi i piedi, fare i primi sperimenti, stessa cosa. Mi aspetto, ci aspettiamo tutti quanti che lo facciano anche per quelli che riguarda semplicemente lo staking, ok? Allora, passiamo adesso alla parte staking, quindi utilizzo questa guida, The Ultimate Ethereum 2 Staking Guide, come mettere in staking Ether, la guida definitiva a Ethereum 2.0. Allora, andiamo a vedere. Metto anche il link qua sotto, questa è una guida molto utile, fornita a tutti quanti al fine di capirci un pochettino di più, dove si parlano appunto delle varie fasi, quelle che abbiamo visto assieme poco fa. la domanda principale è fare staking o non fare staking? Ovvio, l'abbiamo vista adesso, comporta dei compensi, il fatto di fare staking. C'è un capitale minimo di Ether per farlo, che sono 32 Ether, ma nella realtà lo possiamo fare grazie ad altre soluzioni. Questo schemino è molto pratico e ci aiuta a capire bene tutte le possibilità di staking offerte in questo momento. E soprattutto quali sono i rischi per ogni possibilità di staking e le difficoltà. Ok? In basso abbiamo la difficoltà maggiore, quindi condurre un vero e proprio nodo validatore comporta un investimento minimo di 32 Ether messi in staking, quindi liquidità bloccata per almeno un anno, due anni, tre anni, non lo sappiamo a tutti gli effetti. Sì, riceve un compenso, ma intanto blocco il mio asset in Ether e comporta anche un impegno notevole sia come infrastrutture, perché dovrò comprare delle infrastrutture specifiche per settare, creare il mio nodo e soprattutto comporta un, qui lo vediamo, la complessità richiede delle qualità in termini di conoscenza dell'hardware e del software e di come strutturare tutto notevoli. Io assolutamente non ho queste capacità al momento. Posso magari passare alla fase 2 tipo un pre-configured validator notes o un validator as a service studiando un pochettino, quindi ci sono dei dei nodi pre-configurati che si possono comprare con dei costi anche impegnativi. Adesso mi pare attorno al migliaio di euro, quindi invece che settare io, costruirmi il nodo, fare tutto, compro direttamente l'hardware, lo attacco, metto un programmino per adesso sto dicendo così perché non l'ho fatto a tutti gli effetti quindi so che più o meno funziona così è una cosa un pochettino meno complessa di gestire da soli un nodo validatore però richiede sempre un minimo di conoscenza. Totalmente decentralizzata quindi mi appoggio alla blockchain non ci sono rischi di intermediari però ovviamente devo gestire tutta questa parte quindi la mia liquidità viene bloccata fino alla fase 1.0 minimo 32 ether la custodia appunto degli ether è decentralizzata quindi vanno su un indirizzo della blockchain ok quindi non c'è nessun intermediario i rischi sono quello di slashing e di problematiche dell'infrastruttura lo slashing appunto è quello che abbiamo detto prima se commetto qualcosa di malizioso nella validazione mi vengono lo slash del mio asset è quello della riduzione o distruzione appunto del mio asset messo in staking richiede mantenimento costante regolare poi abbiamo una parte quindi validator as a service un pochettino più semplice ci sono le fee aumentano ovviamente sempre qui è un semi custodial sempre il rischio di slashing ovviamente richiede comunque un minimo di conoscenze tecniche poi dicevo abbiamo la parte validator as a service è una semi custodial le ultime due sono semi custodial quindi c'è comunque un intervento di intermediari sono richiesti sempre 32 iter sempre rischio di slashing ma quello ovviamente c'è sempre è molto più facile perché è una soluzione plug and play il target ideale per questa soluzione sono investitori con un alto patrimonio netto ok veniamo adesso alle parti un pochettino più semplici di fatti questo video questa guida è più indirizzata a magari chi è nuovo vuole sapere un pochettino di più su ethereum perché questo passaggio ethereum 2.0 e se ho degli iter invece che settarmi un vero e proprio nodo da me cosa che ripeto io personalmente non mi ritengo in grado di farlo e quindi lo sconsiglio assolutamente a meno che non sei un esperto di software e di blockchain le soluzioni più semplici che comportano comunque fee maggiori perché parte del compenso viene lasciato all'intermediario ho anche il rischio dell'intermediario quindi la custodia dei miei iter non è più fatta direttamente da me sul indirizzo blockchain ma viene fatto da un intermediario c'è da dire però che mi rende la vita più facile cioè la complessità è veramente semplice soprattutto nei primi due casi in alto utilizzando landing platform piattaforme di prestito o i classici exchange custodial dove non devo fare praticamente nulla se non dire all'exchange ok metti many in staking ma i grandi vantaggi quali sono innanzitutto non ho bisogno di avere almeno 32 iter ma ad esempio per lo staking pool 0.01 iter e già posso partecipare con le landing platform o gli exchange qualsiasi valore di iter ho lo posso mettere in staking e soprattutto a seconda della soluzione ho la mia liquidità disponibile ma come allora per le staking pools quindi i pool di staking dove partecipo allo staking assieme ad altri e vediamo magari un esempio dopo ricevo un derivato quindi ricevo un iter sintetico che mi viene creato al fine di poterlo scambiare ovviamente se ci sarà sufficiente liquidità e richiesta sul mercato ma immagino assolutamente sì perché comunque è una soluzione estremamente flessibile e estremamente comune soprattutto in questo momento quindi non ho più il problema dei 32 iter messi in staking bloccati e non poter utilizzare questa liquidità fino alla fase 1.5 o la fase definitiva perché ad esempio con gli exchange loro mettono in staking bloccati sul ethereum 2.0 ma mi riconoscono parte della liquidità o in questa maniera quindi con degli iter sintetici da poter scambiare quindi con la creazione di un nuovo token un derivato tutti gli effetti o come per le landing platform un collaterale allora partiamo con le prime due in alto landing platform ok ho delle fee da pagare come dicevamo per l'intermediario posso mettere faccio l'esempio ho un iter lo metto in staking barra custodia ricevo un prestito solitamente del 50% in us dollar tether o usdc e quindi ho una liquidità con cui posso fare delle cose ok posso comprare altre monete posso spenderli eccetera ovviamente per sbloccare poi un domani quando voglio quando vorrò i i iter messi messi in staking dovrò chiudere quel prestito che ho ricevuto ok c'è anche sempre tieni presente un rischio collaterale solitamente quando il il valore degli iter messi in staking bloccati scende al di sotto una certa percentuale di solito è tra il 50 e il 60 70% il mio collaterale quindi i miei iter messi in staking mi vengono liquidati e quindi li perdo beh c'è da dire che una correzione del 60 per cento 50 60 per cento in una fase di burran è difficile però attenzione tutto può accadere nel mondo delle cripto tutto può accadere quindi fai i tuoi dovuti ragionamenti su su tutto quanto ok non entriamo nei dettagli di ogni singolo operatore da utilizzare ma l'obiettivo di questa guida è quella di darti una visione di insieme farti darti chiarezza totale su come funziona iter ethereum 2.0 e le possibilità di staking sia con 32 o addirittura meno quindi fai bene attenzione considera sempre tutto quanto poi la parte più facile in assoluto sono gli exchange qui prendiamo un esempio quelli che hanno comunicato che daranno disponibilità sono coinbase binance kraken e bitcoin swiss andiamo a vedere per coinbase se ne sta già parlando da un po' coinbase permetterà di fare staking ethereum 2.0 exchange americano una delle maggiori piattaforme mondiali prevede di lanciare la funzionalità all'inizio del 2021 e difatti qua comunicazione sul blog di coinbase parla proprio di eccolo qua starting starting in early 2021 quindi inizio del 2021 ancora quindi non lo si può fare onestamente non so se si possa già fare su binance o sugli altri exchange se ti interessa ti consiglio appunto di andare a ricercare su binance kraken e bitcoin swiss coinbase sai che ci sarà dall'inizio 2021 un accenno agli staking pools uno dei più famosi ne ho accennato anche in alcune puntate di parliamo di bitcoin è il protocollo staker di anchor che gira su anchor partiamo staker è un protocollo decentralizzato e piattaforma che combina lo staking e il defy implementando elementi dello staking tradizionale con lo staking non custodial sono delle micro pools con una governance decentralizzata il protocollo porterà benefici lo staking in modo che anchor che è il creatore di questo protocollo ha fatto ospita proprio dei nodi e permette di accedere a questi nodi o a questi micro pools anche a partecipanti con importi più piccoli quindi permettendo lo staking portando lo staking a tutti quanti andiamo a vedere quindi staking simplified staker metto il link anche qua sotto se vuoi andare a vedere staker come funziona è un protocollo decentralizzato come abbiamo visto quindi i micro pools permettono di avere liquidità istantanea e una governance decentralizzata questa è la situazione dove per gli staking che tu metti scusa per gli iter che metti in staking ricevi dei token sintetici degli iter sintetici allora al momento ci sono 536 staker il totale degli iter messi in staking sono 6445 perché staker micro pool si può portare in staking a partire da mezzo ethereum fino a 1000 iter per unirsi automaticamente agli staker dei micro pool staking manager può inviare i tuoi iter in un'unica transazione e staker automaticamente li collocherà nei diversi pools allora liquidità staking liquidity eccolo qua a eth quindi a piccola eth è il token sintetico che viene creato come controparte degli staking scusami degli iter che metti in staking puoi lo puoi lo puoi tenere in holding o addirittura tradarlo scambiarlo ok con altri con altri token è un token rc20 quindi che gira lo vediamo che gira sulla blockchain sicurezza mantieni i tuoi fondi sotto un unico ente che ti che ti dà custodia quindi non sono custoditi da te come sulla blockchain che ripeto richiede una conoscenza specifica qua invece è molto più semplice basta inviarli a un indirizzo che ti viene fornito adesso non l'ho fatto personalmente perché al momento non mi interessava ancora mettere in staking i miei iter ma è una cosa che sicuramente farò perché è uno dei miei obiettivi è quello di accumulare sempre più iter oltre a accumulare sempre più bitcoin perché mi interessa anche comunque ethereum assolutamente sì e quindi è una cosa che da qui alle prossime settimane considerò sempre di più di collocare alcuni iter in staking e molto probabilmente utilizzerò staker o magari da qui a un mese le cose cambiano ci sono altri protocolli addirittura migliori e li andrò a valutare c'è un calcolatore come calcolare i propri earning molto semplice normalmente settato a circa un 15% di compenso annuale quindi ipotesi ho i miei 10 iter che voglio mettere in staking so che riceverò in un anno un iter punto 15 di compenso ecco molto molto semplice questo è quello che è quindi ripeto metto qua sotto un po' di link di risorse che ti consiglio di approfondire conto che questa guida ti sia stata di grande utilità ti abbia dato chiarezza su che cos'è ethereum 2.0 perché si passa quali sono le fasi le cose che devo fare che non voglio fare e soprattutto se voglio fare staking quali sono le possibilità a partire dal basso importi economici più importanti conoscenze assolutamente molto avanzate fino andando verso l'alto dove posso accedere con importi anche molto più esigui e conoscenze ridotte proprio al minimo con quelle che già questo video ti può fornire quindi io ti ringrazio ti chiedo di schiacciarci un like condividere il video con tutte le persone appassionate come te del mondo delle criptovalute bitcoin e blockchain commenta qui sotto fammi sapere quali sono le tue intenzioni se vuoi fare staking magari conosci o hai testato alcuni di questi staking pools quindi assolutamente scambiamoci informazioni queste idee perché ripeto io mi sono informato più a livello teorico ma nella pratica non ho ancora fatto nulla per quanto le parti che abbiamo detto custodian exchange lending e staking sono veramente semplici da fare non sono interessato personalmente al momento alle soluzioni quelle più complesse sia per motivi economici ma anche per motivi di conoscenza soprattutto di tempo da dedicare che con famiglia figlio e tante cose da portare avanti soprattutto anche sul canale su quello che stiamo facendo con Crypto Learners non non ho sufficiente tempo per 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 scavare aumentare le mie conoscenze per quello che riguarda il settaggio di un nodo per quanto è una cosa che mi affascina e mi piacerebbe comunque fare ma devo focalizzare al massimo il mio tempo quindi ecco torno totalmente visibile grazie per essere stato qui con me un affettuoso e caro abbraccio da parte mia Alberto di Crypto Learners ripeto clicca un like clicca sul sul canale sulla campanellina per ricevere aggiornamenti upgrade da tutto quello che facciamo condividi e fammi sapere quali sono le tue idee fare staking non fare staking e soprattutto se hai già testato delle soluzioni ok a presto Alberto è tutto Crypto Learners ciao